Quattro indagati tra i vertici del Ministero della Transizione Ecologica e questo il nuovo capitolo riguardante le mega discariche di bussi sul Tirino che fa seguito alla denuncia del comune dell'anno scorso. Nel mirino della procura di Roma Giuseppe Lopresti, Gaia Checucci, Luciana Distaso ed Enrico Bentivoglio del provveditorato alle opere pubbliche. I quattro del di Castero sono indagati per omessa bonifica e falso per i gravi ritardi nella rimozione dei rifiuti. Storicamente il Ministero dell'Ambiente sembra un po' una, tranne alcune persone che hanno lavorato bene in questi anni, poche, ma in generale complessivamente il Ministero sembra più essere una palla al piede delle bonifiche che non il soggetto che essendo competente deve farle andare avanti velocemente. Passano appunto 14 anni e questo sito non vede quell'area industriale non ha un grammo di terreno sostanzialmente bonificato e sono decine di ettari, 26 ettari. I reati a noi è l'ultima cosa che ci interessa, diciamo così ovvio, c'è la magistratura che deve fare il suo corso, a noi ci interessa la bonifica e su questo però il dato è incontrovertibile, la bonifica non c'è. Intanto è stato avviato il cantiere per la bonifica dell'area Tremonti dove i lavori sono a cura di Edison. Io ho fatto un incontro con la società a cui è stata delegata la bonifica, abbiamo un lunghissimo incontro, abbiamo concordato che i vari passaggi saranno discussi anche con l'amministrazione comunale, ho fatto anche di più, ho chiesto a questa società di incontrare i cittadini perché è giusto che anche i cittadini che hanno lottato affinché si facesse questa bonifica siano passo passo informati su quello che si sta facendo. Ho avuto piena disponibilità da parte della società, punto a fare un'assemblea pubblica con loro verso la metà del mese di dicembre. Rimane la questione della bonifica del resto del sito di interesse nazionale di 232 ettari, in particolare per quanto riguarda le discariche 2A e 2B. Per queste aree nel 2018 è stata giudicata la gara d'appalto che il Ministero ha tentato di annullare in modo illegittimo secondo Tarre e Consiglio di Stato nel 2020. La bonifica, in base a una recente sentenza della Cassazione, dovrà essere completamente risarcita da Edison. Il PD però chiede che sia la multinazionale francese ad occuparsi dei lavori. Ma la Edison è una società responsabile di questo inquinamento che deve pagare, ma se lo fa una ditta terza che ha già fatto il progetto va benissimo. Perché azzerare tutto? Perché voler a tutti i costi dare i lavori a Edison perdendo anni? Abbiamo già perso tre anni, quasi quattro, per quelle decisioni. Questa mattina c'è stata una manifestazione nel polo industriale organizzata dai movimenti ambientalisti. Occasione anche per ricordare il generale Conti. Le quindagini portarono alla riscoperta delle discariche nel 2007. Ai familiari è stato donato un albero che sarà appiantumato, si spera in tempi brevi, a bonifica terminata.